gentili telespettatori buona giornata il nuovo ministro della cultura di cui ne abbiamo parlato prima con una geniale introduzione che veramente mi ha fatto ribaltare in parcheggio dal ridere lui voleva dimostrare di essere un acculturato e sembrava il conte mascetti che diceva come se fosse antani allora il ministro giuli dice o il pedigree di destra o mamma il pedigree pedigree voi sapete che cos'è il pedigree lui dice che è il pedigree di destra perché la sua ascendenza la sua di qua di là ma voi sapete che cos'è il pedigree allora definizione di pedigree il pedigree è un documento rimportante l'elenco completo degli ascendenti paterni e materni di un animale come risultante da appositi libri genealogici quindi il pedigree è l'albero genealogico degli animali quindi il ministro dicendo che ha un pedigree di destra che cosa voleva dire ditelo voi io non lo dico arrivederci a tutti e grazie